Benvenuti in questa lezione di Clinical Competence in terapia intensiva cardiologica. Tratteremo l'insufficienza respiratoria, la ventilazione non invasiva e l'emogassanalisi. A cura dell'area emergenza-urgenza dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. L'insufficienza respiratoria acuta rappresenta una delle più importanti cause di accesso in pronto soccorso e di recovery in terapia intensiva. Lo scompenso cardiaco con edema polmonare acuta è la seconda causa più frequente di insufficienza respiratoria, ma la prima tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva cardiologica. È sicuramente un'importante complicanza delle sindrome coronariche acute e quando presente ne peggiora notevolmente la prognosi. Questi sono i punti principali che andremo a trattare nel corso della nostra lezione. Innanzitutto vedremo come riconoscere l'insufficienza respiratoria e come trattarla, in particolare mediante l'utilizzo della ventilazione non invasiva. Analizzeremo poi le cause principali dell'insufficienza respiratoria inutica che possono beneficiare di una ventilazione a pressione positiva, concentrando naturalmente la nostra attenzione sull'edema polmonare acuto. Infine andremo a vedere, dal punto di vista pratico, come impostare i parametri della ventilazione non invasiva e quando e come gestire la sedazione del paziente. Infine vedremo come monitorizzare gli effetti della NIV, in particolare mediante l'utilizzo dell'emogas analisi e come gestire lo svezzamento. Andiamo pertanto a vedere come riconoscere l'insufficienza respiratoria. L'insufficienza respiratoria viene definita come la presenza di più di due criteri tra quelli clinici e gli emogas analitici. I criteri clinici sono la dispnea da moderato a severa, l'aumento della frequenza respiratoria sopra i 25 atti e la presenza di aumentato lavoro muscolare, come l'utilizzo della muscolatura accessoria, la presenza di una bilancia toraco-addominale e via dicendo. Dal punto di vista dell'emogas analisi, l'elemento più importante è sicuramente la presenza di ipossiemia, definita come la riduzione del rapporto P su F sotto i 300 mmHg, dove P su F si intende il rapporto tra la pressione parziale arteriosa di ossigeno e la frazione di ossigeno respirata dal paziente. Oppure la presenza di forme acute, ma più frequentemente di acutizzazioni di forme croniche, con aumento della pressione parziale dell'indite carbonica sopra i 50 mmHg o acidosi con pH sotto i 7.35. Andiamo ora a vedere come trattare l'insufficienza respiratoria, concentrandosi in particolare sulla ventilazione non invasiva. La ventilazione meccanica non invasiva, meglio conosciuta con l'acronimo DINIV, è una modalità di supporto ventilatorio meccanico a pressione positiva in un paziente che deve avere un trigger respiratorio conservato e quindi deve essere cosciente e non intubato. Richiede un'interfaccia esterna tra il ventilatore e il paziente, che può essere di diverso tipo, al posto di pressi di interno nei quali il tubo oro tracheale. La NIV rispetto alla ventilazione convenzionale è sicuramente più difficile da praticare e gestire rispetto alla ventilazione invasiva. Elementi fondamentali quando parliamo di ventilazione non invasiva sono innanzitutto sapere quando iniziarla. Deve essere iniziata il primo possibile quando ci sono le condizioni, perché questo porta a migliori risultati e porta anche a una riduzione del ricorso alla ventilazione meccanica invasiva. La ventilazione non invasiva non è un'alternativa alla ventilazione invasiva quando quest'ultima è indicata. L'addestramento del personale è fondamentale e ha dimostrato chiaramente come sia un fattore prognostico di risposta favorevole al trattamento. Inoltre effettuare la ventilazione non invasiva in un contesto adeguato è importante dove ci sia la possibilità di monitorizzare il paziente e anche ricorrere eventualmente al piano B. Con il termine di NIV comprendiamo sia la CPAP che la BPAP. Il termine CPAP significa pressione positiva nelle vie aeree continua, mentre il termine BPAP significa pressione positiva nelle vie aeree a doppio livello. La CPAP non è altro che l'applicazione di una pressione positiva a livello delle vie aeree maggiore di quella atmosferica. Questo permette un aumento del volume polmonare, un aumento della pressione intratoracica, però senza scarico della muscolatura respiratoria. Invece la BPAP applica una pressione positiva non solo nella fase ispiratoria ma anche nella fase ispiratoria. Questo permette di scaricare la muscolatura respiratoria. Con questo grafico viene rappresentato come funziona la modalità ventilatoria CPAP e BPAP che compongono appunto la NIV. Vedete la CPAP non è altro che il paziente che respira su un livello di pressione più alta di quella atmosferica che identifichiamo con il termine di PEP. La BPAP invece vi è una pressione positiva durante la fase ispiratoria ma anche una pressione positiva durante la fase ispiratoria. Quando scegliamo di applicare una CPAP oppure una BPAP? La CPAP la scegliamo quando vi è un quadro di iposiemia, quindi un'insufficienza del polmone pura. La BPAP invece ci viene d'aiuto quando assieme all'iposiemia si associa un'ipercapnia e quindi non vi è solo un'insufficienza del polmone ma anche un'insufficienza del mantice polmonare. Questo schema ci permette di dimostrare quanto abbiamo appena detto in maniera molto pratica. In caso di paziente cosciente e collaborante con rapporto P su F sotto i 300 ma un pH normale e una pressione parziale di anidride carbonica sotto i 50 mm di mercurio allora possiamo utilizzare la CPAP. La BPAP ci viene d'aiuto invece nel caso in cui la pressione parziale di anidride carbonica sale sopra i 50 mm di mercurio oppure il pH inizia ad alterarsi scendendo sotto i 7,25. In caso di paziente non cosciente o non collaborante naturalmente dovremo ricorrere a un'intubazione orotracheale e una ventilazione meccanica invasiva che dovrà essere considerata anche in caso di aumento della P CO2 sopra i 70 mm di mercurio o un pH che scende sotto i 7,1. In queste immagini vediamo quelli che sono i presidi maggiormente utilizzati per effettuare una ventilazione non invasiva nelle nostre terapie intensive cardiologiche. Andremo ad analizzare alcuni di questi. Le canule nasali ad alti flussi stanno avendo un notevole successo negli ultimi anni grazie alla loro semplicità di utilizzo e ottima tollerabilità. Possono essere utilizzati anche senza un ventilatore ma con un dispositivo a muro. Danno una PEP fissa che con flussi di ossigeno tra i 60 e gli 80 litri al minuto si aggira intorno ai 5-7 mm di mercurio. Perdono però di efficacia in caso di bocca aperta. La maschera oro nasale è sicuramente il presidio maggiormente utilizzato nelle nostre terapie intensive cardiologiche grazie alla facilità di utilizzo e posizionamento e grazie alla bassa possibilità di perdite quando viene correttamente posizionata. Dall'altro lato però può dare distensione gastrica con possibilità di vomito e rischio di inalazione. Inoltre può dare delle lesioni cutanee da pressione quando viene tenuta per periodi prolungati. Il paziente inoltre ha difficoltà nel parlare e nel tossire oltre ad essere difficile da tollerare in caso di claustrofobia. Questi svantaggi possono essere evitati mediante l'utilizzo del casco che sicuramente è più confortevole rispetto alla maschera. Può essere utilizzato per periodi prolungati e inoltre permette al paziente di vedere e di parlare. Dall'altro lato però può essere fastidioso per il rumore che crea. Inoltre il volume d'aria all'interno del casco può dare il cosiddetto re-breathing della CO2 oppure di sincronia nel caso di ventilazione tipo pressure support o beep-up. Inoltre i costi del casco sono più alti rispetto a quelli della maschera. Vediamo ora le forme principali di insufficienza respiratoria che vediamo nelle nostre terapie intensive cardiologiche. Queste sono rappresentate dall'edema polmonare acuto cardiogeno e negli ultimi anni vediamo sempre più forme dovute a riacutizzazioni di broncopneumopatia cronica o struttive. Queste rappresentano due di quelli che il professor Nava ha definito i fantastici in quanto sono quattro le tipologie di insufficienza respiratoria che è stato dimostrato beneficiano della ventilazione non invasiva. Quando parliamo di ventilazione non invasiva ed edema polmonare acuto cardiogeno non possiamo fare riferimento a quello che è stato il trial più importante della letteratura pubblicato nel 2008 su New England Journal of Medicine che ha dimostrato come l'utilizzo di una ventilazione non invasiva rispetto all'ossigenoterapia standard nell'edema polmonare acuto cardiogeno portava a una riduzione della dispnea, a una riduzione della frequenza cardiaca e a un miglioramento significativo di alcuni parametri emogastanalitici come il pH e la pressione parziale di anidride carbonica. Ci sono circa 20 trial clinici in letteratura che indagano l'utilizzo della ventilazione non invasiva nell'edema polmonare acuto cardiogeno. Esistono anche diverse meta-analisi e qui vi abbiamo riportato la più recente che mostra una riduzione della percentuale di ricorso all'intubazione orotracheale nei pazienti trattati con NIV versus ossigenoterapia standard una riduzione significativa della mortalità intraspedaliera ma non della mortalità durante l'addegenza in terapia intensiva. Pur con questi dati a disposizione non vi è però un consenso unanime da parte delle linee guida internazionali. Quelle europee infatti pongono la ventilazione non invasiva nell'edema polmonare acuto in classe di raccomandazione 2 con livello di evidenza A. Quelle canadesi in classe 1A. Le linee guida NICE invece non ne raccomando in un utilizzo rutinario ma solo in presenza di dispnea severe ed acidosi. Le linee guida dei pneumologi americani infine pongono la ventilazione non invasiva nell'edema polmonare acuto in classe 1B. Per introdurre il concetto della ventilazione non invasiva in caso di ipotensione e quindi shock è necessario fare un piccolo accenno a concetti di fisiopatologia. La ventilazione a pressione positiva crea in primis un aumento della pressione a livello delle vie aeree e successivamente a livello alveolare. L'aumento di queste pressioni conseguentemente porta anche un aumento della pressione pleurica. Questo provoca una compressione a ben strinseco del ventricolo sinistro e del ventricolo destro. Quest'ultima causa anche una riduzione del ritorno venoso alle sezioni destre del cuore. A sua volta si assiste anche a un aumento del postcarico ventricolare destro dovuto alla compressione dei capillari polmonari. A livello invece sinistro inizialmente si ha un aumento della pressione arteriosa aortica con conseguente attivazione della risposta barocetoria e quindi successiva riduzione della pressione del postcarico ventricolare sinistro. Pertanto combinando questi elementi fisiopatologici si può dedurre come nei pazienti con disfunzione del ventricolo destro o quelli dipendenti dal precarico come ad esempio pazienti con normale funzione biventricolare ipovolemici la presenza di una PEP più che moderata quindi sopra i 5 cm d'acqua riduce la portata del ventricolo destro. Nei pazienti invece dipendenti dal postcarico come ad esempio pazienti con scompenso cardiaco e disfunzione del ventricolo sinistro la presenza di una moderato elevata PEP quindi sopra i 7.5-10 cm d'acqua migliora la portata cardiaca. Questo effetto di riduzione del postcarico con un aumento della gittata sistolica viene sfruttato talora in pazienti con scompenso cardiaco anche senza criteri stretti di indicazione alla NIV. Naturalmente non esiste nessun trial clinico in letteratura che abbia testato l'utilizzo della ventilazione non invasiva nel caso particolare dello shock cardiogeno ma questo recente studio multicentrico prospettico pubblicato nel 2017 ci dimostra come la ventilazione con pressione positiva di un paziente in shock cardiogeno non sembra aumentare la mortalità e neppure la durata dell'adegenza ospedaliera. Vediamo ora come impostare dal punto di vista pratico i parametri di una ventilazione non invasiva e cercheremo inoltre di capire quando e come iniziare una sedazione. Innanzitutto dal punto di vista pratico è importante quando iniziamo una ventilazione non invasiva comunicare col paziente e spiegare il perché andiamo a fare una ventilazione non invasiva e l'importanza di questa. In questa maniera miglioriamo la compliance del paziente e riduciamo anche la necessità di sedazione. Va appoggiata inizialmente la maschera sul volto del paziente per alcuni minuti prima di fissarla rimanendo con il paziente stesso alcuni minuti e in questo frangente di tempo capiremo anche se il paziente avrà necessità di sedazione. Se iniziamo una CPAP potremmo impostare come parametri una FiO2 intorno al 50% naturalmente modulabile in base ai valori di PaO2 prima dell'inizio della ventilazione. La peppa può essere impostata inizialmente a 5 e poi aumentata progressivamente. Il nostro target è quello di avere un rapporto P su F maggiore di 300. Se utilizziamo invece una BPAP dovremmo impostare anche la pressione positiva ispiratoria delle vie aeree e questa potremmo impostarla tra 5 e 10 centimetri d'acqua dipendentemente dai valori di pressione parziale di anidride carbonica arteriosa. Nell'impostazione dei parametri ventilatori devo ricordare sempre dei concetti fondamentali. Per la correzione dell'iposemia modulerò la FiO2 o la peppa. Per la correzione dell'ipercapnia invece regolerò la pressione di supporto o la pressione ispiratoria a seconda della modalità ventilatoria. Va sempre ricordato come, entro la prima ora, devo aver capito se la mia strategia ventilatoria sta funzionando. Se non vi è stato un miglioramento dei parametri clinici ed emogas analitici entro la prima ora dovrò valutare il passaggio al piano B, cioè all'intubazione orotracheale. Inoltre va ricordato come la valutazione dell'efficacia ventilatoria deve essere fatta mediante il volume tagli all'espiratorio che risulta più affidabile in caso di perdite, che dovrà essere intorno ai 6-8 millilitri pro chilo. Nel caso in cui il paziente risulti agitato o intollerante alla NIV, cosa che accade in circa il 50% dei casi, devo pensare di iniziare una terapia sedativa. Esistono anche degli scori in letteratura che ci possono aiutare per valutare il grado di agitazione del paziente. Negli ultimi anni si sta affermando la dexmedetomidina come ottima soluzione nei pazienti sottoposti a NIV, grazie alla capacità di prevenire il delirio, a simulare il sonno fisiologico e all'ottima ansiolisi. Non dimentichiamo la caratteristica che la contraddistingue dagli altri sedativi più comunemente utilizzati di avere scarsa capacità di riduzione del driver respiratorio. Va somministrata in infusione continua al dosaggio di 0.2 1.4 gamma pro chilo minuto. Capiamo adesso come monitorizzare adeguatamente un paziente in ventilazione non invasiva e alcuni cenni a come leggere l'emogas analisi. Il monitoraggio dei pazienti in ventilazione non invasiva deve avvalersi di elementi clinici e strumentali. Ad esempio, nel caso in cui abbiamo iniziato una CPAP, devo controllare l'emogas analisi dopo 15 minuti. Se questa risulta in miglioramento, allora continuerò con il monitoraggio emogas analitico a intervalli regolari. Nel caso in cui l'emogas analisi risulta invece invariata o in peggioramento, dovrò pensare a una modifica dei parametri oppure a un upgrading della tipologia di ventilazione. Nel caso in cui il paziente si deteriora dal punto di vista della coscienza oppure con massimo supporto ventilatorio non invasivo non migliora, allora dovrò pensare all'intubazione orotracheale e ventilazione invasiva. L'emogas analisi arteriosa può essere fatta in diverse sedi. La più frequente è sicuramente la sede radiale, ma può essere fatta anche in sede femorale e brachiale. Si deve utilizzare una siringa dedicata e parinata, eventualmente si può anche utilizzare in caso di difficoltà l'ecoguida. Il prelievo va fatto in anerobiosi e l'analisi deve essere immediata. Questi rappresentano i valori di normalità dei parametri che otteniamo con l'emogas analisi. Nella colonna centrale vediamo i parametri dell'emogas analisi arteriosa, nella colonna a destra invece quella venosa. Nell'interpretazione dell'emogas analisi devo avere innanzitutto una valutazione globale e chiara del paziente. Osservando poi i parametri dell'emogas analisi dovrò valutare l'ossigenazione con la saturazione e la PO2, dovrò valutare il pH, la PCO2, i bicarbonati e le basi e ragionare su quello che potrebbe essere il compenso atteso. I valori normali di PaO2 vanno da 80 a 100 mm di mercurio. Questo parametro risulta fondamentale per il calcolo del rapporto P su F che quando è sotto i 300 mm di mercurio indica un quadro di ipossiemia. I valori normali del pH variano da 7.35 a 7.45. Quando i valori si riducono sotto questo range di normalità siamo nell'ambito dell'acidosi, a valori più alti siamo nell'alcalosi. In questo grafico sono riportate le alterazioni dell'emogas analisi. In caso di alterazione di origine respiratoria sarà la PCO2 il parametro alterato e risulterà elevato nell'acidosi mentre sarà ridotto nell'alcalosi. Nelle alterazioni metaboliche invece sono i bicarbonati le basi ad essere alterate e risulteranno aumentate nell'alcalosi e ridotte nell'acidosi. A seconda che sia già avvenuto un compenso il pH potrà variare anche all'interno della stessa tipologia di alterazione. Nel caso di acidosi il primo parametro che valuterò sarà la PCO2. Se questa è aumentata saremo naturalmente di fronte a una forma di acidosi respiratoria. Se normale, con basi negative avremo una acidosi metabolica. Se ridotto è segno di un'iniziale attivazione dei meccanismi di compenso. Anche l'enalcalosi valuterò in primis la PCO2. Se questa è ridotta saremo di fronte a un'alcalosi respiratoria. Se è normale, con basi elevate saremmo di fronte a un'alcalosi metabolica. Se invece è elevata significa che è nato un iniziale meccanismo di compenso respiratorio. E andiamo ora a vedere come effettuare uno svezzamento dalla ventilazione non invasiva. Per pensare a uno svezzamento devo innanzitutto avere una stabilizzazione dei parametri clinici ed emogas analitici, come normalizzazione del pH e del rapporto P su F, e scomparsa della dispnea e della polipnea. Lo svezzamento potrà avvenire riducendo progressivamente la pressione positiva di circa 2 cm d'acqua per volta, controllando progressivamente l'emogas analisi. La ventilazione non invasiva potrà essere sospesa con valori di CO2 sotto il 40% e PEP sotto il 5 cm d'acqua. Più complesso è lo svezzamento invece del paziente ipercapnico, in cui spesso è necessario alternare cicli di ossigeno terapia standard alla ventilazione non invasiva. Concludendo, l'insufficienza respiratoria acuta è sicuramente qualcosa che vediamo spesso nelle nostre terapie intensive cardiologiche. Ricordiamo come complica spesso le sindrome coronariche acute, peggiorando nella prognosi. La ventilazione non invasiva è uno strumento molto utile nell'ambito intensivo cardiologico e fondamentale è riconoscere precocemente i pazienti che possono beneficiare e avere un buon addestramento del personale. È importante effettuare questo tipo di terapia in ambiente adeguato, avere la possibilità di passare al cosiddetto piano B, avendo sotto stretto controllo clinico e strumentale del paziente. Per quanto riguarda i temuti effetti emodinamici della PEP, va detto che di solito sono confinati i pazienti fortemente dipendenti dal precarico, mentre risultano essere vantaggiosi nel paziente che ha esaurito la riserva di precarico e che diventa post-carico dipendente, che sono in effetti la maggior parte dei pazienti cardiologici che necessita di una NIV. Sono Nicola Gasparetto e ringrazio la dottoressa Cacciavillani per l'ospitalità. La dottoressa è responsabile della terapia intensiva cardiologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Siamo qui per un'intervista sulla ventilazione non invasiva. Noi vorremmo avere alcune indicazioni, alcuni concetti chiave, soprattutto pratici, per i giovani o meno giovani cardiologi che si approcciano a questa metodica. Grazie Nicola, ho visto la tua presentazione che penso sia molto utile, quindi credo che sia utile parlare di ventilazione non invasiva e anche di ventilazione invasiva nell'ambito della terapia intensiva cardiologica. Grazie. Dottoressa, in base alla sua esperienza, quale presidio ventilatorio utilizza e consiglia di utilizzare per la gestione della NIV? Io credo che nella gestione della NIV, per la nostra esperienza, quello che ci è risultato più utile e anche più facile da utilizzare sia la maschera full face. È una maschera che in qualche modo il paziente tollere in maniera adeguata, se ovviamente preparato e seguito poi nel tempo e ci permette non solo di dare al paziente una ventilazione con CPAP, con una pipa adeguata, ma anche tramite l'utilizzo poi di un ventilatore di dare una pressione di supporto che nel paziente critico è assolutamente utile. Quale strategia attua per migliorare l'adattamento all'interfaccia e prevenire il delirio nei pazienti in ventilazione non invasiva? L'adattamento del paziente alla maschera o alla nostra interfaccia è assolutamente indispensabile per una buona riuscita della ventilazione. Credo che nel paziente giovane sia importante e quasi sempre sufficiente la collaborazione del paziente che vuol dire spiegare al paziente bene a cosa va incontro e questo può permetterci anche di continuare una ventilazione senza grossi problemi. Nel paziente anziano credo che sia importante intercettare i primi segni di insofferenza alla maschera, che vuol dire i primi segni di agitazione e quindi trattarli in maniera adeguata. Nella nostra esperienza è sicuramente utile l'infusione continua di dexmetodina e in alternativa altrettanto utile può essere l'utilizzo di morfina nella nostra esperienza a boli. Che parametri generalmente imposta quando applica una NIV? Allora, senza qui regole troppo rigide perché ovviamente vale un po' il discorso da paziente o paziente, direi che quando impostiamo una NIV dobbiamo attestarci su una PIP che non deve essere inferiore a 5 ma direi che 5-7 può essere un valore accettabile all'inizio, una pressione CO2 che quando partiamo può essere non inferiore a 50, direi fra i 50, i 70, gli 80. Ovviamente questi parametri sono solo l'inizio e vanno immediatamente aggiustati dopo pochi minuti direi al primo emogas arterioso che abbiamo del paziente in base all'emogas e la risposta emodinamica del paziente. Secondo la sua esperienza, in un paziente con iniziali segni di instabilità emodinamica ma senza una chiara insufficienza respiratoria, si consiglierebbe di utilizzare in maniera estensiva e la NIV in questo tipo di setting? L'influenza della NIV a livello delle emodinamiche circolatorie esiste ed è un'influenza positiva, onestamente non è quello che utilizziamo noi e non mi pare che in questo momento gli studi clinici non siano così forzi da supportare l'utilizzo della NIV in assenza di un'indicazione ventilatoria con lo solo scopo di ottenere quei benefici che pur esistono a livello circolatorio. Quali sono gli elementi più importanti da guardare in un referto di emogas analisi e come vanno interpretati? Mi verrebbe da dirti che va visto tutti i dati che l'emogas analisi ci presenta, va valutati valutando la frequenza respiratoria e valutando il paziente quanto riesce a muovere di volume valutandolo dal punto di vista clinico. La PO2 ovviamente è un segno importantissimo perché dobbiamo valutare se quello che stiamo facendo ottiene un effetto desiderato. La PCO2 ci dice se il paziente sta compensando adeguatamente o meno, il pH ovviamente perché è un segno acuto di disequilibrio di acido base e ovviamente i lattati perché ci dicono se questi aumentano o sono in diminuzione, ci dicono se il paziente sta migliorando o va viceversa verso segni di ipoperfusione che ovviamente necessitano poi altri adeguamenti terapeutici. Nel paziente in NIV, gestito in terapia intensiva cardiologica, a suo avviso è sempre necessario avere un catetere arterioso radiale o femorale in sede per poter meglio monitorizzare il paziente? Sì, direi di sì. Una monitorizzazione invasiva arteriosa è importante, non tanto per avere una monitorizzazione della pressione arteriosa che comunque ha una sua validità in questi pazienti, ma poter valutare l'emogas in maniera precoce, continua e quindi una monitorizzazione invasiva della pressione direi che è una cosa da ottenere in questi pazienti e da mantenere. Dal punto di vista pratico, dottoressa, lei generalmente come procede a svezzare un paziente dalla NIV? Ad esempio, la PIP la scala gradualmente oppure toglie l'interfaccia senza procedere a un progressivo scalo? Allora, senza regole troppo rigide direi che se il paziente ha una sovrapip, una pressione di supporto, questa va prima scalata. La PIP potrebbe essere anche sospesa brutalmente, se abbiamo valori bassi di PIP su un paziente a 4 o 5 di PIP possiamo sospenderla, ma se troviamo su valori sui 10, quali spesso utilizziamo, credo che sia magari opportuno prima ridurli e poi sospendere. Infine, dottoressa, vorrei chiederle se ci dà 5 consigli pratici per una buona gestione della ventilazione non invasiva in terapia intensiva cardiologica. I 5 consigli sono quelli che già hai esposto nella tua relazione. Il primo è quello di iniziarla precocemente, non attendiamo tempi. Iniziarla e continuarla in un ambiente adeguato, con un'adeguata monitorizzazione. Monitorizzare il paziente sempre, ma soprattutto valutare gli effetti che abbiamo nella prima ora, perché dobbiamo darci un termine entro la prima ora, dobbiamo capire se quello che stiamo facendo ha un senso, se dobbiamo passare a un piano B. Valutare sempre l'importanza della collaborazione del paziente e quindi accorgerci precocemente dei segni che il paziente diventa intollerante a quello che stiamo facendo e trattarli precocemente, come tu hai detto, come abbiamo detto adesso, e essere sempre nelle condizioni di poter passare anche in maniera veloce a una modalità di ventilazione diversa, che vuol dire una ventilazione invasiva, e quindi poter assistere il paziente nel migliore dei modi. Questo credo che siano le cose così che dobbiamo tenere a mente quando iniziamo e quando vogliamo avere questo nostro supporto nelle nostre pazienti. Molto bene, grazie dottoressa per gli ottimi consigli pratici, per l'ospitalità e... Nulla, grazie a te. Credo che sia importante attualmente per un giovane cardiologo che voglia definirsi cardiologo intensivista, possedere questi concetti di ventilazione invasiva e non invasiva, perché credo che la nuova triapia intensiva cardiologica questi pazienti debba trattarli e debba trattarli anche in maniera un po' autonoma e quindi sia giusto che sappia queste cose e sappia gestire questo tipo di paziente. Grazie. Grazie.